Buonasera a tutti. Buonasera. In inglese. Oh, 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 capisco. He said, good evening, everyone. Mi chiamo Giuseppe Di Marco, il portavoce di Sergio Marchioni, il capo di Chrysler Corporation. He said, his name is Giuseppe Di Marco. He is the spokesperson for Sergio Marchioni, who is the head of Chrysler Corporation. Prima del discorso di signor Marchioni, devo chiedere, ci sono dei giornalisti qui stasera? Sì. Sì? No, no, no. He said, before Signore Marchioni delivers his address, he was wondering whether there are any journalists in the audience this afternoon. No? Bene. Sì, Diego, costa è clicca. Sì, Sergio Marchioni, CEO di Fiat, and I regrettare a dire Chrysler. Sì, questo è mio rapporto su come le компании siano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.